Sequestrate oltre 20.000 confezioni di cioccolato sulle quali era riportata, fraudolentemente, la denominazione Cioccolato di Modica, di cui circa 6.000 recanti illecitamente il marchio IGP, Indicazione Geografica Protetta, per un valore commerciale di oltre 50.000 euro. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Ragusa, in sei esercizi commerciali nei comuni di Modica e Scicli. Un regolamento europeo, emanato nel 2018, ha reso quello di Modica il primo cioccolato IGP riconosciuto in ambito comunitario e ne ha definito le caratteristiche organolettiche, i relativi metodi di produzione e il piano dei controlli, ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché possa essere identificato con il marchio IGP. A tutela dei consumatori ogni confezione di cioccolato di Modica deve presentare uno specifico logo. Le indagini hanno consentito di portare alla luce una presunta attività di frode in commercio mediante l'illecito utilizzo della denominazione cioccolato di Modica e la contraffazione del marchio IGP. I rappresentanti delle due società sono stati segnalati alla locale procura della Repubblica per frode nell'esercizio del commercio, che prevede la pena della reclusione fino a due anni e la multa fino a 2.065 euro e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, che prevede la pena della reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.